ciao sono david piraglisi sono qui nel mio studio per parlarvi del moon drive di costa lab un maff al germanio con una distruzione molto morbida ma nello stesso tempo anche molto dinamico reagisce molto a tocco e si ha una sensazione di avere comunque un suono veloce anche con settaggi di saturazione piuttosto bassi è quello che farò adesso per cominciare con una saturazione leggermente diciamo un quarto in questo parametro che nel pedale è chiamato sustain adesso ho incrementato il sustain a metà e come potete sentire esce un suono molto potente anche utilizzando diciamo una tipologia di chitarra tipo strato suono suono Ora ho settato il sustain al massimo e il tipo di distorsione che ne viene fuori è potentissima pur rimanendo anche qui molto dinamica giocherò un pochino col volume della chitarra per farvi sentire il risultato questa è la chitarra pulita la chitarra pulita anche con il settaggio del sustain al massimo veramente il pedale in questo modo è un po' tutto al massimo si ha sempre una distorsione molto dritta e soprattutto molto veloce pur essendo potentissima anche per degli assori vi esce un suono grosso e facilmente collocabile diciamo un po' in qualsiasi mix un po' in qualsiasi mix un po' in qualsiasi mix grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti